Amore, mi sono proprio divertito questa sera. Ma sì, infatti, mi ha gustato proprio una cena deliziosa, guarda. Se può fare, se può fare. Anche la musica. Eh sì, è che la magia del Natale rende tutto molto più agevole. Ma poi quella, guarda, non si può fare. E va bene adesso che verrà, però l'importante è che ci siamo divertiti. Sì, ma... Ma l'ultimo moscerino è questo, chi se lo fa? È mio! Ma chi è? Fermi, te non lo toccare. Oh, ma... Oh, sono Giulio, sono venuto a pia la bombola. Te saluto. Visto? Sì. La ci piace per un magno. Ciao, auguri, per rispetto dei bravi che ti svolta. No, chérie, mi sono mangiato pure l'usciassino. Per rispetto di mamma, di parto, di sorda e di città brevi. Che, ambeci. E che, a tutti. Per rispetto di mamma noi più dobbaccioni. Giò, ass prego, annabilo. Riccenditi, avvicagli attiva per rispare il mondo. Ho, sì, dicamimi, tutte le mie, czompare il mondo è un mondo conoscato! Chi, è unMother?